Al convegno della FIM sulla rappresentanza il sottoconso della presidenza Tommaso Nannicini ha detto delle cose importanti riguardo al futuro della contrattazione. Ha detto che il governo ha dato delle indicazioni con la legisabilità ma non pensa di intervenire prepotentemente e massicciamente sul modello contrattuale come invece si teme da molti campi. È una lettura valida di quello che ha detto Nannicini a suo avviso Marco Gai, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria? Secondo me è una lettura valida e credo che sia la lettura possibile nel senso che chi può parlare del futuro dei contratti meglio se non chi li deve applicare, quindi le imprese e i lavoratori. È giusto che ci sia un supporto da parte delle istituzioni ma i contratti devono essere discussi, risolti nel più breve tempo possibile dalle parti dei corpi intermedi. Ma un modello di relazione industriale, un modello contrattuale definito nei particolari è davvero utile o è meglio lasciare flessibilità alle parti sociali? Io credo che sia davvero utile avere un contratto nazionale che disegni i perimetri e i capi saldi della contrattazione e del rapporto di lavoro. Dopodiché alla contrattazione di secondo livello quindi aziendale deve essere lasciato la possibilità di premiare i fattori che siano il merito, la produttività legata anche al rapporto salariare oltre che di miglioramento dell'azienda. Quindi credo che un forte mix delle due sia importante e deve essere agevolato. E il modello Fiat in qualche modo che sta prendendo piede? Ma credo che Fiat quando fu dette uno scossone al modo in cui si faceva la contrattazione sindacale e credo che naturalmente poi le aziende stanno trovando la loro dimensione e i corpi intermedi troveranno poi la soluzione migliore che meglio si investirà sulle esigenze. Questo potrebbe significare anche che in un futuro Confindustria rientri anche Fiat? Ma io credo che questo siccome Confindustria è la casa delle imprese sicuramente ci farebbe molto piacere avere un'impresa importante che ha fatto la storia del nostro paese ed è importante come brand della nostra Italia nel mondo, nella nostra associazione. Il sindacato è pronto a questo dialogo con le imprese così come deve essere fatto sulle cose più concrete, al di là dell'ideologia, al di là dei punti fermi più legati al passato che al futuro? Io spero di sì perché è il momento appunto di mettere a parte l'ideologia, di guardare al futuro e si può fare solo se c'è la seria volontà e anche la visione che è imprescindibile oggi rimettersi a vivere la modernità e non il passato. Perché gli industriali sono sempre contrari alla contrattazione territoriale? In fin dei conti è un modo per risolvere anche i problemi delle piccole imprese. Per quanto ci riguarda, noi come contrattazione territoriale riteniamo che ci sia un altro livello aggiuntivo. Abbiamo un'associazione di Confindustria che è presente in tutta Italia quindi pronta a supportare le nostre aziende che magari all'interno non possono fare il secondo livello. Se no diventa una complicazione della complicazione. Credo che un quadro generale nazionale e poi la possibilità di gestirlo in azienda per quelle aziende che vogliono farlo sia il miglior risultato. Ma se fosse chiaro che non è un livello aggiuntivo ma è soltanto sostitutivo del livello aziendale quindi un vero secondo livello, non potrebbe risolvere qualche problema anche alle aziende? Credo che noi dobbiamo andare verso la semplificazione da un sistema molto complicato come quello che abbiamo oggi fatto di mille contratti, mille rivoli, mille opportunità e cercare di stringere il più possibile perché poi è lì che si è più dinamici. Il prossimo accordo con CGL Cislewil, il nuovo presidente di Confindustria, riuscirà a farlo? Io confido che sarà così perché è importante che sia così, ne va anche del futuro del nostro paese e non solo delle nostre imprese. Presidente, boccia, dicono i giovani imprenditori di Confindustria. Noi abbiamo indicato con un'ampia mazzonanza in maniera chiara il boccia come nostro candidato perché riteniamo che abbia quelle caratteristiche, quella visione, quella concretezza che oggi può portare un valore aggiunto. Nella premessa che riteniamo che tutti i candidati che oggi ci stanno mettendo la faccia sono veramente degli imprenditori seri e con la volontà di contribuire alla propria associazione. Dopodiché abbiamo deciso di fare una scelta, ci siamo confrontati e questa scelta è ricaduta sull'indicazione di Enzo Boccia come presidente che riteniamo la persona più adeguata. Presidente che comunque avrà bisogno di grandi auguri e noi facciamo tanti auguri al nuovo presidente. Grazie.